amore ma te la posso fare una domanda? sono undici anni che ho una testa ma tu scureggi ma che domande fai? amore ti prego rispondimi tu scureggi? ma certo che scureggio! no non c'è credo non c'è credi? e fammene una sei sicuro? dai fammela sono curioso sono curioso mo c'è credi? c'è credo c'è credo di che roba? oh oh amore devo chiamare un dottore amore no amore ripete non vi siete iscritti al nostro canale? iscrivetevi subito lasciate like commentate condividete e attivate la campanella delle notifiche così ad ogni video che pubblicheremo vi arriverà la notifica al prossimo video